Musica Siamo al Teatro Quirino dove dal 12 al 24 di aprile è in scena una commedia divertentissima Lei è ricca, la sposo e l'ammazzo con Orazio Pignatelli alias Gianfranco Iannuzzo e Albertina Cosa succede in questa commedia? In questa commedia accade che c'è un ex ricco che è Orazio Pignatelli che si accorge di non avere più un soldo e consigliato dalla sua fedele cameriera annunziatina interpretata da Antonella Piccolo decide di trovare una donna, di cercare anzi una donna che è possibilmente ricca per poi con il proposito di disfarsene dopo il matrimonio e arriva la capitata Albertina presentata da un'amica Claudia Bazzano che presenta questa Albertina e Albertina è un'entomologa, si occupa di insetti, non ha il minimo dubbio sul fatto che quest'uomo la corteggi per la sua non avvenenza fisica e per questa passione per gli insetti quindi insomma nasce questo amore all'inizio a senso unico la vicenda poi proseguirà con colpi di scena l'avvocato che è appunto Antonio Fuffaro che è il mio avvocato che fa un po' un doppio gioco e poi c'è lo strozzino diciamo comunque Cosimo Coltraro siciliano che poi anche lì ci sarà una sorpresa anche per quanto riguarda questo personaggio quindi è una vicenda molto molto divertente dove tutti i personaggi iniziano in un modo e poi si diventano in un altro migliorano, fosse così anche nella vita sarebbe meraviglioso è uno di questi è proprio lui che migliora tranne la bruttina che rimane sempre Cozza Cozza non mica tanto Cozza una bruttina stagionata diciamo no è una commedia ricca di colpi di scena e questo è il motivo per cui ha avuto questo grandissimo successo perché è piena delle idee straordinarie del regista nostro che è Patrick Rossi Castaldi noi ce l'abbiamo messa tutte e siamo stati molto incoraggiati da lui proprio alla figura degli attori gli attori devono recitare dei personaggi devono portare quello di nostro che possiamo metterci nel personaggio ma dobbiamo recitare dei ruoli quindi sono personaggi lontanissimi da Deborah però poi diventano veramente la ragione Deborah dicendo che questi personaggi che partono in un certo modo io sono l'archetipo di quello che di peggio le donne pensano degli uomini un po' superficiale, non vuole avere legami assolutamente misogino, ipocrita, opportunista un po' vigliacco anche nei confronti di questo mafioso che gli presta i soldi, gli fa paura proprio fisicamente poi alla fine questo incontro con Albertina che lo spiazza perché lui lo vorrebbe sopprimere e quindi la sopprime nei modi che pensa in modi più comici, divertenti, buffi diventa una specie di paperino che gli vanno male tutte le cose che lui ha pensato perché questo diventa simpatico al pubblico poi alla fine che trova quest'angelo praticamente che trova quest'angelo che lo modifica, lo spiazza completamente è come sparare sulla croce rossa e quindi non lo farebbe mai quindi diventa, da vigliacco diventa coraggioso da ipocrita diventa sincero, leale diventa generoso, diventa un paladino la vuole difendere si arma di lupara per andare a ammazzare con gli stessi strumenti il mafioso perché ritiene che l'abbia rapita per chiedere un riscatto insomma diventa un'altra persona e questo mutamento è alla base dell'unico messaggio che ci vuole essere in uno spettacolo che vuole assolutamente intrattenere il pubblico in maniera lieta, divertente, leggera che è la cosa per la quale alla fine devo dire la maggior parte degli spettatori ci ringraziano cioè ci avete fatto passare due ore senza pensare a problemi C'è in tutta questa commedia un elemento, qualche cosa più divertente diciamo, il pezzo più divertente? Secondo me, dal mio punto di vista ce ne sono due che uno è il momento in cui Orazio proprio decide di corteggiare Albertina che è così imbranata che non si muove dalla porta non riesce ad entrare lui si inginocchia per farle la dichiarazione e lei ha appena messo è appena caduto un bicchiere sul quale lui si va a infrangere quindi si spacca un ginocchio insomma è una scena molto divertente ce n'è un'altra molto divertente all'inizio quando si incontrano dall'avvocato ma ce ne sono tante c'è la prima notte di nozze che anche quella sono scene assolutamente prese così come erano dal film però noi le abbiamo fatte a modo nostro e hanno molto appresa sul pubblico dal punto di vista comico sì è da vedere lo spettacolo per fortuna è da vedere una cosa voi volevate molto lavorare insieme so io finalmente ci siete riusciti ecco quindi avete dei progetti futuri dopo questo spettacolo sì vogliamo vogliamo continuare questa avventura perché comunque squadra vincente non si cambia e poi devo dire ci siamo trovati talmente bene che veramente abbiamo voglia ancora di raccontare delle storie insieme sempre divertenti e sempre divertenti sì sì poi insomma lasciamo un po' di suspense ancora non non è ben definito però insomma lasciamo un po' di sorpresa e poi forse riprenderemo anche un pochino questo lo saprete lo saprete lo saprete voi allora diamo gli appuntamenti al pubblico di Vissume TV e al pubblico intero noi siamo qui in questo palcoscenico fino al 24 aprile e quindi vi aspettiamo siamo già molto contenti del successo che abbiamo avuto però insomma vi aspettiamo numerosi fino al 24 aprile Teatro Quirino ecco Deborah Caprioglio Giafra Coglianuzzo Giancarlo Leone Vissume TV grazie grazie a voi grazie a tutti grazie a tutti